Tina Cipollari Tina Cipollari, che ha seguito tutto il percorso di Teresa sul trono, condividendo alcune sue decisioni e criticandone delle altre, è pronta a mettere da parte il suo parere personale per lasciare che Teresa viva la sua favola d'amore Come ha sempre fatto in occasione delle scelte, anche questa sera, la Cipollari parteciperà con gioia a quella che sarà una festa dell'amore anche di fronte ad una scelta che non le piacerà, ma quale sarà il ruolo di Tina per l'occasione? A svelarlo è proprio la Cipollari Tina Cipollari, ecco il mio ruolo durante la scelta di Teresa Langella Dove c'è una festa c'è anche Tina esordisce la Cipollari a parte gli scherzi? Posso dirvi che incontrerò Teresa prima della sua scelta e poi sarò anche nel castello da favola per la grande festa di fidanzamento, ha spiegato l'opinionista Tina ha poi aggiunto che spera di vedere l'inizio di una nuova favola d'amore, spero di partecipare alla nascita di una meravigliosa storia d'amore Come si dice in questi casi, se son rose fioriranno e se invece saranno spine ci si pungerà Vi aspetto tutti. . Il look per la scelta di Teresa Langella. Quella che il pubblico vedrà durante lo speciale di Uomini e Donne sarà una Tina Cipollari diversa La bionda opinionista lascerà a casa il suo spirito polemico per tirare fuori un lato inedito del suo carattere Il pubblico mi conosce come donna, opinionista pungente e appassionata che, a parte i temi caldi, sa essere simpatica e divertente e mai banale spiega alla Cipollari che poi aggiunge quando si ha il coraggio di dire la verità non si corre mai il rischio di essere banali Come sarà, dunque Tina nella scelta? Lungimirante e proiettata nel futuro, dice Per il grande momento di Teresa, poi, Tina indosserà un abito elegantissimo che lei stessa definisce pazzesco Iscriviti per non perdere le novità! Grazie per il like!